Ciao! Come state? Bella ragazzi, benvenuti in questo canale, non vi aspettate di vedere me, vero? Non era proprio questo il video in cui volevate vedere il vostro G che dispensa le sue perle e invece no. Mi dispiace per voi, ma da oggi in poi vedrete me qui sul punto di G perché questo canale in realtà ormai appartiene a me. Prima di spiegarvi che cosa è successo, mi raccomando ragazzi, facciamo crescere questo canale. Andate ad iscrivervi qua sotto, cliccate la campanella con tutte le notifiche e andate a vedervi tutti i link giù in descrizione. Soprattutto perché ci sono un sacco di novità in arrivo, un sacco di bei link, ok, che metteremo nuovi, che io metterò oggi in descrizione e che spero vi possano piacere. Allora, questo canale era di G, il nostro caro amato G, ma purtroppo sono successe un paio di cose e G ha venduto il canale. E sì, io me lo sono comprato e me lo sono comprato per una 6600 XT e un pacchetto di Morositas, perché G era molto ghiotto di Morositas e non è stato nemmeno poi tanto difficile convincerlo a lasciarmi questo splendido canale hardware che si chiama il punto di G e che prima o poi rinomineremo in punto di M, ovvero che sarei io, Marco Verdoliva, o punto di V, punto di Verdoliva, non lo so, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto. Sono successe una serie di cose. Non so se voi sapete, ma G ultimamente ha fatto un sacco di bei video, un sacco di bei contenuti, se ve li siete persi andatevi a recuperare. Però c'è sempre stato in lui il seme della discordia, c'è sempre stato un tarlo nella sua testa che poi l'ha portato ad un'inevitabile rovina che è stata quella di vendere il suo canale. Infatti il nostro caro G ha sempre, sempre, sempre sostenuto che le schede video Nvidia fossero in qualche modo superiori alle schede video AMD. Ora, voi dovete sapere che purtroppo ci sono dei poteri dietro a noi youtuber che ci comandano, ok? Che ci dicono cosa fare, cosa dire, come dirlo, quando dirlo e se c'è qualcuno chi è? E se c'è qualcuno ed è qualcuno dov'è? E se dov'è, perché? Eh? Questo qualcuno in realtà lo conosciamo bene e da qualche mese stava, diciamo, tenendo d'occhio G perché questo suo atteggiamento nei confronti delle schede video AMD non è piaciuto a qualche potere forte che ha deciso di estirparlo dal trono. Infatti sono stato contattato da un losco personaggio che si paventa, diciamo, di fare trattative sotto banco con gli youtuber e questo losco personaggio appartiene a degli hacker di AMD che sono riusciti ad entrare in possesso del canale di G perché AMD guarda tutti, ok? E ad AMD non è piaciuto questo atteggiamento di G che tanto esalta queste schede video Nvidia 3000 e di conseguenza questo losco personaggio mi ha proposto di acquistare il canale di G ebbene sì, G è stato spodestato per una 6500 XT chi l'avrebbe mai detto? Il destino a volte è crudele ma G si è accontentato perché insieme alla 6500 XT gli abbiamo dato un pacchetto di Morositas quindi da oggi in poi vedrete qui un sacco di bei video, un sacco di belle recensioni dove parlerò solo ed esclusivamente di AMD ragazzi quindi vi porterò un sacco di contenuti sulle bellissime schede video AMD soprattutto la 6500 XT e in ogni caso se volete vedere il vostro G non dovete fare altro che andare giù nei commenti e scrivere un hashtag FreeG in modo tale da poterci convincere in qualche modo a restituire il canale a quel povero, povero, povero supporter Nvidia che dovrebbe cambiare un botteggiamento secondo me in ogni caso io penso che questo primo aprile sia stato un primo aprile dove abbiamo perso un po' di vista diciamo le cose intelligenti da fare perché anche noi ogni tanto ci prendiamo gioco di voi e speriamo di farvi divertire, di donarvi un sorriso qui su YouTube io ringrazio immensamente G per avermi offerto questo piccolo spazio e vi ricordo seriamente di iscrivervi al canale di G qui sotto perché i prossimi video ragazzi saranno delle bombe G ha in servo per voi un sacco di cose utili ok? faremo più spesso probabilmente qualche collaborazione e se vi interessa tutto quello che riguarda il mondo hardware andatevi a vedere tutti i video che abbiamo postato giù in descrizione c'è il video di Saddi, c'è il video di Rama, c'è il video di Patrick quello anche di Archdat insomma oggi è un giorno in cui abbiamo deciso di dedicare il tutto a un sorriso e un pesce d'aprile con i fiocchi ciao ragazzi, alla prossima!